Oh buongiorno carissimi amici del canale, ci troviamo a Colle Brincioni, piazza San Silvestro e questa è l'omonima chiesa di San Silvestro, quindi bellissima chiesa con campanile dove c'è anche un orologio, nella piazza c'è anche questa simpatica fontana e poi c'è anche questo bel monumento che rappresenta due donne, non so esattamente cosa voglia dire, venitelo a scoprire, ecco qua, la chiesa è questa, vedete com'è comunque molto antica, c'è una lapide diciamo in bronzea che ricorda i caduti, c'è una bella panchina per lottare contro la violenza sulle donne, quindi è una panchina rossa anche se un po' sbiadita, anche il legno della porta della chiesa è piuttosto sbiadito, sull'architrave c'è una scritta, così come c'è una scritta anche in alto, che non so bene cosa ci sia scritto, ma come dico sempre io lancio uno spunto, poi voi venite per conto vostro e acquisite qualche altra notizia, ecco qui la facciata laterale con l'ingresso laterale, quindi un muro insomma fatto tutto quanto in pietra grezza, anche questa è comunque ancora piazza san silvestro, andiamo a vedere la parte posteriore della chiesa, se ci riserva qualche sorpresa, ecco la porta rossa della sagrestia, vediamo dietro cosa c'è, vediamo, vediamo, dietro non c'è molto direi, c'è questa pianta di edera che si arrampica sulla chiesa, però a parte questo non vedo particolari strutture da poter visitare, a parte questa vegetazione piuttosto fitta e regoiosa.